La promessa e debito, Umberto Bossi lo sa, l'aveva annunciato a Pontida nel 2010, era esattamente il 20 giugno dell'anno scorso e questo sabato, 23 luglio, nella Villa Reale di Monza è prevista la cerimonia ufficiale di apertura delle nuove sedi del Ministero per il Federalismo, dell'Economia e della Semplificazione Normativa. Il trasloco è stato ultimato e la Lega Nord, promotrice dell'iniziativa attraverso i suoi leader, ha preparato tutto per l'appuntamento. Così saranno svelate le stanze al piano terra della Cavallerizza, dove saranno aperte le sedi periferiche dei tre ministeri che fanno capo a Roberto Calderoli, Umberto Bossi e Giulio Tremonti, ma nessuno sfarzo. I ministeri padani avranno a disposizione tre locali nell'ala sud della Villa Piano Terra per un'area complessiva di 100 metri quadrati ricavati negli spazi occupati fino a poco tempo fa dal Consorzio per la Gestione della Villa, gli unici rimasti di competenza dello Stato dopo l'accessione ai comuni dell'intero complesso monumentale Reggio Parco. Queste sedi avranno funzioni di sportello a disposizione dei cittadini per le riforme istituzionali del federalismo, come spiegato nel decreto della Presidenza del Consiglio. Nell'ultimo appuntid era stato Roberto Calderoli a mostrare le targhe in ottone, che ufficializzavano l'apertura dei ministeri nel capoluogo dell'Abrianza. In poco più di due mesi tutto è stato definito dopo la dichiarazione di Calderoli, che il 20 maggio aveva annunciato una grossa novità durante la campagna elettorale delle amministrative. Al taglio del nastro domani ci saranno i ministri Umberto Bossi e Roberto Calderoli, in rappresentanza della Regione Lombardia il vicepresidente, l'assessore Andrea Gibelli, leghista DOC. Non potrà mancare nemmeno il sindaco del capoluogo, il leghista Marco Maria Mariani, che è entusiasta dell'iniziativa e sarà in prima fila.